Anna Ciamariconi si conferma sindaco di Torano, insomma la cittadina sceglie la continuità. Sì, davvero una grande soddisfazione. La comunità ha deciso di riconfermare questo gruppo, questo progetto, quindi ha ripagato con la propria fiducia l'impegno che abbiamo profuso in questi anni, davvero un impegno enorme. Sono stati anni difficili, sicuramente complessi, ovviamente per via del Covid, ma devo dire che l'impegno che abbiamo messo soprattutto nel cercare di reperire fondi e finanziamenti esterni è stato tantissimo e infatti abbiamo oggi 5 milioni di euro da poter portare avanti, sono già attivate le procedure, quindi la continuità è anche necessaria proprio per portare a compimento questi progetti. siamo molto contenti, io non posso che ringraziare chiaramente tutto il gruppo che ha condiviso con me questo programma, ma di continuità quindi anche naturalmente i componenti che hanno fatto parte del gruppo nel corso del primo mandato, la vice sindaca Tamburrini, la consigliera Pennesi, il consigliere Pepe che ringrazio per aver creduto in me fin dall'inizio. Ho voluto dedicare questa vittoria all'amico, al carissimo Ettore Muscella che ci ha lasciati di recente, io sono sicura che lui sarà sicuramente festeggiando.